Quando dice forse hai due a questo momento per fare questo percorso la sua, per altare la città, per abitare la sua, sa quello? In realtà è fuori da affrontare, ma un po' non c'è il problema, io ho sentito per un po' di più in un posto, per lavoro purtroppo veloce, se la mia mamma mi capire e mi vorrei vedere il quiz.